Ben ritrovati con l'informazione locale di Unica TV edizione di Monza, vediamo insieme i nostri titoli di oggi. Dopo 15 anni sarà abbattuto l'ex magic movie di Mugioi, il multisala abbandonato e degradato diventerà un parco, consegnato il cantiere per la bonifica. Lavorano in Svizzera ma vivono in Brianza, ci sono frontalieri anche nella nostra provincia ma non hanno agevolazioni fiscali. I sindaci dei comuni a 20 chilometri dal confine incontrano la regione. In occasione della giornata mondiale contro la violenza di genere organizzata a Monza, la corsa solidale We Run for Women. 64 casi di violenza sessuale da inizio anno in provincia. Allora vediamo i servizi. Sette anni di attività e sedici di abbandono, ma ora la struttura dell'ex magic movie park a Mugioi, nata nel 2000, fallita nel 2007 per anni soggetta a infiltrazioni mafiose, sarà abbattuta e all'area sarà data nuova vita. Si sarà una ferita, dice il sindaco Maria Fiorito durante la cerimonia di apertura del cantiere. Quella del multiplex infatti non è solo una storia di degrado ma anche di criminalità organizzata, tra inchieste legate a infiltrazioni mafiosa e investimenti illeciti. Dopo numerose aste deserte, l'amministrazione comunale nel 2021 si è giudicata all'immobile con un esborso di 1.650.000 euro. Era il primo passo verso la rinascita. Nel marzo dello stesso anno il comune ha ottenuto dal Ministero degli Interni più di 2 milioni legati a un bando nazionale per la rigenerazione urbana. Sette mesi fa la giunta di Mugioi ha deliberato l'integrazione del finanziamento statale con 500.000 euro. Oggi si chiude la gara d'appalto e il sindaco ha consegnato le chiavi dell'area alla società edile. È per me un momento particolarmente emozionante, ha detto il primo cittadino. È stato raggiunto quello che nel profondo del mio cuore ho sempre pensato essere l'obiettivo più importante del mio mandato, quello che avrebbe cambiato il volto della città. Grazie all'alleanza tra le istituzioni, conclude, è stato affermato il valore della legalità. Presenta la cerimonia anche il prefetto, Patrizia Palmisani, che ha detto l'ex Magic Movie ha imposto uno sforzo costante da parte delle forze dell'ordine, di contrasto delle attività che si svolgevano all'interno della struttura, che naturalmente hanno destato non poche preoccupazioni, prima di tutto tra i residenti della zona. Oggi possiamo immaginare un futuro diverso nell'interesse della comunità. I frontalieri non vivono solo a Como, Varese, Sondrio o Lecco. Ce ne sono anche in provincia di Monzebrianza. E quelli residenti in quattro comuni, che rientrano nella fascia di 20 km dal confine, avrebbero diritto anche alle agevolazioni fiscali, al momento però non riconosciute. Per questo il sindaco di Lazzate Andrea Monti, insieme ai colleghi primi cittadini di Cogliate, Misinto e Lentate sul Seveso, ha incontrato la regione. Abbiamo registrato l'interesse di Regione Lombardia nella figura dell'assessore Sertori, della consigliere regionale Snider, già onorevole, si era già occupata a Roma della tematica dei frontalieri e abbiamo richiesto chiarezza, maggiore chiarezza su due punti per noi importanti. Uno rispetto ai cittadini che sono residenti nei nostri comuni, che hanno il titolo per avere il trattamento fiscale riservato ai frontalieri perché i nostri comuni risiedono all'interno della fascia di 20 km. Ma c'è ancora molta incertezza anche per via di un elenco che ha prodotto il canton Ticino e che non vede ricompresi i nostri comuni. Quindi noi chiediamo maggiore chiarezza e credo già nei prossimi mesi questa potrebbe avvenire da parte del Ministero che dovrebbe fornire un elenco preciso dei comuni che sono inseriti nella fascia di 20 km. E poi il discorso dei ristorni perché la provincia di Monzebrianza che non è mai stata ricompresa nella DGR con cui la regione Lombardia suddivideva e distribuiva le risorse che arrivavano dal canton Ticino. L'anno scorso è rientrata anche la provincia di Monzebrianza ma con un solo frontaliere, la quota per un solo frontaliere. Quest'anno ci hanno anticipato che invece sono previsti 4 frontalieri conteggiati nel ristorno della provincia di Monzebrianza ma crediamo che questo dato sia macroscopicamente errato perché chiaramente già noi come sindaci personalmente conosciamo decine di nostri concittadini che sono frontaliere. E quindi è un percorso che porteremo avanti col Ministero. Non sarà facile perché chiaramente questi dati sono in mano al canton Ticino ma noi confidiamo che riusciremo a mettere chiarezza e a dare alla provincia di Monzebrianza le risorse che aspettano. 64 casi di violenza sessuale da inizio anno nel territorio provinciale di Monza. 73 atti persecutori, 188 maltrattamenti tra le mura di casa, le persone denunciate 255. La questura di Monzebrianza però non combatte la violenza contro le donne solo sul fronte della repressione ma anche del cambiamento culturale. In occasione dell'avvicinarsi della giornata mondiale per l'eliminazione della violenza di genere con il comune del capoluogo e l'associazione Monza Marathon propone We Run for Women. Lo sport non è soltanto sinonimo di saluti e socialità inclusione ma è anche un importante veicolo di sensibilizzazione su tematiche sociali come la lotta alla violenza sulle donne. Si legge nella nota di Regione Lombardia che ha ospitato la presentazione dell'evento con il sottosegretario a sport e giovani di Regione Lombardia, Lara Magoni. Domenica 19 novembre al Parco di Monza si terranno una gara competitiva su 10 chilometri, una amatoriale della stessa lunghezza e un percorso inclusivo di 3 chilometri, una medaglia eco-sostenibile per i vincitori e una maglietta arancione per tutti che consentirà di avere un ingresso gratuito e uno ridotto a Villa Reale. Qui per restare in tema sono state allestite due mostre che espongono le riproduzioni degli abiti che indossavano donne che hanno subito violenza e foto che ritraggono momenti di quotidianità in cui però si celano atti di violenza psicologica. Una lotta agli stereotipi dunque per completare la giornata monzese che punta ai riflettori sulla violenza di genere. Questa iniziativa, spiega il questore Marco Dorisio, è doppiamente virtuosa in quanto il ricavato proveniente dall'iscrizione alla corsa sarà devoluto ai quattro centri antiviolenza della rete Artemide di Monza e dell'Abrianza, da sempre al fianco delle donne in difficoltà. Da tempo punto di riferimento per i cittadini con il proprio sportello polifunzionale, lo spazio città di Vimercate ha festeggiato i vent'anni di attività. Una mattinata di celebrazioni e brindisi per lo sportello situato a fianco di Palazzo Trotti e che sin dalla sua introduzione ha costituito un modello, anche in altri comuni, nella rivoluzione del rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione. Un unico spazio in cui offrire ai residenti un front office con una gamma di servizi legati al comune, 61 ore di apertura settimanali, un numero verde gratuito e l'apposito indirizzo di posta elettronica di riferimento. Passano 20 anni ma ancora oggi nelle rilevazioni di qualità che facciamo con i nostri cittadini spazio città è uno dei servizi più apprezzati. È apprezzato perché per le sue caratteristiche di prossimità e di vicinanza che ha al cittadino. Il cittadino può venire qui e qui espletare praticamente quasi tutte le pratiche che si può trovare a dover fare con la pubblica amministrazione, quindi un punto unico dove il cittadino si sente accolto e ben voluto. Un progetto destinato inevitabilmente ad aprirsi alle novità della digitalizzazione ma senza perdere il valore della prossimità e del rapporto umano ritenuti indispensabili nell'offerta del servizio. La caratteristica di prossimità di questo ufficio appunto già citata è che dovrà rimanere quindi l'elemento della vicinanza, la possibilità di fruire in persona, di parlare con delle persone qualificate e contemporaneamente l'integrazione di questa cosa con i più avanzati sistemi di digitalizzazione e perché no anche l'utilizzo qualora può essere utile e integrato dell'intelligenza artificiale che per esempio potrebbe intervenire per tutte quelle che sono le pratiche ripetitive, non so, di compliance dei documenti, di verifica del protocollo, di queste cose qua che magari liberano così ore lavoro dei dipendenti che possono dedicarsi invece al confronto diretto col cittadino. Ciao sono Vittor Maggi, ho 19 anni e ho scelto Schindler perché ho voglia di imparare un mestiere e credo che sia la strada giusta, forse la migliore. Se fino a qualche anno fa il mestiere di tecnico manutentore di ascensori era un lavoro tramandato in famiglia e quasi sempre svolto da uomini, oggi la trasformazione digitale ne ha cambiato la natura, richiedendo una formazione più specifica e aprendo anche a un maggior numero di lavoratrici donne. È proprio per fornire una preparazione tecnica ad hoc e favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro che la Schindler, Assema G Group e Fondazione Mobilità ITS Academy, ha dato il via alla Schindler School. Un percorso della durata di circa nove mesi che prevede 800 ore di formazione, qui seguiranno 830 ore di lavoro in affiancamento a tecnici specializzati Schindler. Abbiamo oggi il piacere di lanciare la nuova Schindler School, che è il risultato di un intenso lavoro che abbiamo fatto in questi mesi, ma anche il giusto tranguardo di un percorso lungo che Schindler ha intrapreso da diversi anni, proprio di impegno nella formazione delle nuove generazioni, verso un mestiere, quello del tecnico dell'ascensoristico, che è molto specializzato ed è altamente ricercato sul mercato. Inserito all'interno dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, finanziati da Regione Lombardia, il corso è indirizzato a diplomati o studenti che abbiano concluso il quarto anno di istituto superiore, under 25, residenti o domiciliati in Lombardia. Contestualmente all'avvio del corso viene prevista l'assunzione dei partecipanti con un contratto di apprendistato di primo livello. Superato l'esame finale e ottenuto il patentino, viene rilasciato un certificato di specializzazione tecnica superiore. I giovani più meritevoli potranno poi entrare nell'organizzazione di Schindler. Ho scelto Schindler perché cercavo un percorso che mi desse un futuro e soprattutto creasse una figura professionale qualificata, quindi un tecnico. Sono sicuro che questa è la strada giusta e so anche dove mi porterà. Per ora è tutto, io vi ricordo che potete seguire le news in tempo reale su teleunica.com, i programmi su teleunica.tv, trovare tanti contenuti speciali sui nostri canali social. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento con i nostri programmi. Grazie per la visione!